Siamo con Eros Anastasi, uno dei tre del team ProPlanet Win365. Ciao Romina, ciao a tutti. Ti abbiamo rubato un attimo dai tavoli perché sei impegnato al gioco. Oggi hai deciso di giocare il D1B e ti chiedo subito come sta andando. Sta andando abbastanza bene, ultimamente sto attraversando un buon periodo nel poker, vengo da diversi risultati positivi e comunque per ora sta andando abbastanza bene, sono contento. Direi che non ti puoi lamentare, è iniziato un 2014 proprio in maniera veramente strepitosa con due final table dell'IPT, un sesto ed un quarto posto. Insomma diciamo che hai iniziato nel migliore dei modi e poi la sponsorizzazione. Beh diciamo che ho finito l'anno scorso molto bene con il grand final, ho fatto il tavolo finale del grand final dell'IPT, con un po' di rammarico ho chiuto al quarto posto, vabbè però... Era al ridosso dell'anno, quindi hai chiuso e aperto con un final table. Perfetto, ho chiuso con un final table e ho aperto quest'anno con un final table a Nova Goriza. Sono un po' amareggiato diciamo più per dicembre del grand final che per Nova Goriza, dove magari non ho dato il massimo e potevo fare di più, però sono contentissimo. Ebbè direi, senti l'agenda live di questo 2014 che prevede? Vabbè adesso siamo qui a Malta dove stiamo giocando il torneo qui in casa, dopodiché ci sarà Venezia dove sicuramente andrò a giocare il WPT National e il Global che si darà credo tra qualche settimana. Poi sicuramente il mese clou è aprile dove andremo a fare EPT a Sanremo, IPT a Sanremo e poi subito dopo l'EPT c'è l'EPT a Monte Carlo, il grand final, perciò sarà un mese diciamo importantissimo e impegnatissimo, sì. Com'è che scegli un torneo piuttosto che un altro, a seconda dell'importanza, del buy-in, del numero di iscritti, del garantito? Beh sicuramente grazie a Planet Win mi dà la possibilità, abbiamo già stabilito i tornei, ne abbiamo discusso insieme e comunque ci dà la possibilità di giocare i tornei più importanti nel panoramico italiano, europeo e anche mondiale. Quindi vi lascia libertà di scelta? Sì, ci lascia abbastanza libertà di scelta, scegliamo insieme, comunque non è mai stato un problema e andiamo a giocare i tornei che sono più importanti nel pallinzesto pokeristico italiano ed europeo sicuramente. Senti, quindi ti trovi bene insomma con Planet Win? Sicuramente sì, perché comunque qualsiasi cosa fai si respira sempre un'area casalinga, familiare, sai quando hai tanti amici, quando si accompagnano tante persone comunque che ti vogliono bene, che ti seguono e tutto va meglio e sono contentissimo diciamo di tutte queste cose, ognuno nel suo ambito, ognuno col suo spazio, riusciamo a fare sicuramente un bel lavoro. Infatti vi vedo molto affiatati anche tra di voi del team pro e anche proprio con i responsabili insomma di Planet Win e per quanto riguarda l'online, la piattaforma come va, quali sono i tornei che magari tu prediligi oppure se prediligi il cash? Ma ti dirò la verità, allora adesso la piattaforma è cambiata da quest'anno, ce n'è una nuova, è cresciuta tantissimo perché considera che tra il No Limit 50 e il No Limit 200 arriviamo a fare anche 25-30 tavoli al giorno, perciò considera che i Grindr trovano sempre action e comunque per una piattaforma sai è un bel po' di soddisfazione che ti ritorna, la vedi sempre piena e comunque tanta gente inizia a piacere, sta crescendo tantissimo sia nel cash che nei tornei, hanno fatto la settimana scorsa il primo 50.000 garantito, dove ho partecipato sono uscito, non ho fatto risultato, però comunque sta crescendo e sta dando modo a chiunque e a tante persone di poter comunque andare a giocare un torneo in un palinzesto dove il massimo era magari 10.000 garantito, Planet l'ha portato a 50.000, perciò comunque questo significa che sta crescendo tantissimo, sicuramente ci saranno delle evoluzioni. Direi di sì, sta investendo molto non solo nell'online, appunto anche nel live, questo free roll da 100.000 euro di novembre, insomma è una prova. Sì, sta crescendo sotto tutti i punti di vista, mettiamo in un'azienda che non finisce mai di lavorare, sempre 24 ore su 24 è sempre pronta lì a dare il massimo, c'è che sempre in ogni settore è sempre il top di quello che cerca di avere, ce l'ha, perciò è un'azienda eccezionale sotto questo punto di vista, come vedi qua stanno hanno circa 315 iscritti, però a tutti quelli che sono venuti qui ha dato possibilità di avere l'invito già per novembre, perciò è una cosa comunque che fidelizza e che le persone le fa stare sempre a casa. E' vero, e poi tutto è curato nel minimo dettaglio, devo dire dai gadget alle osses, insomma tutto il personale che c'è qui, perfino i cioccolatini, ecco sono lì di quelli la buoni, insomma tutto qua è curato nel dettaglio. Proprio vogliamo parlare di quelli, sono eccezionali, sono squisiti, ti posso dire qualcosa io, ne ho mangiato qualcuno in più e vanno bene, niente, cura tutti i minimi dettagli, dunque è difficile che un cliente, un affiliato, qualsiasi persona, entri in casa a Planetwin e che resti scontenta e questo è molto difficile. E' vero, è vero, sia sul live che appunto nell'online, insomma le cose stanno andando bene, come hai detto il primo torneo 50 mila, ne seguiranno anche altre, insomma l'appuntamento per tutti è sulla piattaforma di Planetwin. Tutti i giorni e soprattutto l'ultima domenica di fine mese. E' Rossa Anastasi, gioco col mio e ci vedrete sempre online, a me al team pro, il compagnolo da Vladi, Mirbosinovic e Toluca Moschitta, ai tavoli, qualsiasi orario, certo magari non ci siamo tutti, non sempre, però avremo piacere di vedervi ai tavoli. E hai anche qualche consiglio a qualche giocatore che ti scrive in chat oppure? Sì, non scontratevi con noi. Ecco questo è il consiglio. Va bene Rossa, ti lascio andare e quanto è chip sai? Circa 40 mila, va benissimo. Ciao Romina, ciao a tutti. Bocca al lupo, ciao. Pepi, ciao.